Rate alte dei mutui e qualche sofferenza in più rispetto ad altre città emiliano-romagnole sul credito a rate. E' questa la fotografia relativa allo stato dei prestiti in provincia di Piacenza, dove il 54,7% della popolazione presenta crediti attivi con rate medie mensili pro capite di 278 euro e un indebitamento medio di 34.191 euro. Per lo più, cioè per il 42,9% dei casi, si tratta di prestiti finalizzati, ad esempio, per l'acquisto di un bene come l'auto, il televisore, il frigorifero o di un servizio. Seguono i mutui per la casa e qui siamo al 31,1% dei casi e infine i prestiti personali, 25,9%. Non stupisce quindi che alle associazioni dei consumatori arrivino molte richieste di rinegoziazioni, per esempio, dei mutui o di surroghe, come confermato da Feder Consumatori Piacenza. E' la linea che sembra emergere dalle analisi su tutte le province effettuate da Mr. Credit sull'utilizzo del credito da parte degli italiani quest'anno. Piacenza osserva Feder Consumatori, presenta mutui fra i più alti in Emilia-Romagna da qui, un segnale anche di possibile sofferenza. Sempre Feder Consumatori fa sapere inoltre di aver ricevuto, specie dopo il Covid, molte richieste per allungare un piano di ammortamento, con diversi piacentini che hanno chiesto alla propria banca la rinegoziazione del mutuo, oppure, in caso venga negato, il trasferimento del proprio mutuo a un'altra banca che lo accetti. In questo caso siamo in presenza di una surroga. La moratoria nelle procedure di sovraindebitamento rappresenta invece un meccanismo che consente al debitore di ottenere una sospensione temporanea del pagamento dei debiti. L'accesso per verificare la situazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia è gratuito.